dai che sta registrando un super jump che sia giusto che sia giusto che sia giusto che sia giusto Grazie a tutti Dai ragazzi mamma mia E' messo pausa Dai E' messo pausa Dai Oh sa giocare con gli occhiali Dai, sta tenendo la palla E' che bel gol ha fatto Andra 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 Sì Sì, 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 Sì. ha fatto un bel gol Gio stavo coperto speriamo che è venuto bene stavi coperto dall'altro stavi coperto con un altro due giocatori buoni compagni vai vai la portiera chi si è? ciao 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 questo è un paperon dei paperoni quando state? 5? 5 a 2 o 5 a 1? 5 a 2 ok meno questa è la pioggia a smettere dai dai Gio al centro dai Gio questo è pericolosa dai hai segnato? francese sì 5 e 3 aria a guardare a? 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 pausa 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 che sta registrando? vai 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 io l'ho segnato ehi francese ehi francese è troppo ehi è troppo il 17 devi andare più indietro lo facciamo dai 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 così si fa va bene così? no fa vedere sì così va bene va bene così vai vai grazie 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 francesco faccia una voce non ce nici hai qua ci fa d'acqua